Siamo finalmente arrivati all'inizio di questo benedetto campionato di B2, è un anno che praticamente non giochiamo e siamo molto ansiosi di riprendere questa esperienza e vivere le emozioni di cui era il nostro pane quotidiano si può dire perché comunque bene o male facevamo due o tre campionati a settimana e dopo tanto tempo anche le ragazze sono molto ansiosi, abbiamo fatto qualche amichevole, abbiamo visto un po' di cosette però effettivamente è stata già dura a fare amichevole, presumo che giocare la prima di campionato non sia facile a livello di emozioni e di sensazioni e pertanto non abbiamo alcuna pretesa sotto l'aspetto agonistico, ritengo che debba essere una grande festa già solo il fatto di poter giocare o meglio riprendere a giocare e riprovare le emozioni che fanno parte ormai della nostra quotidianità, che facevano parte della nostra quotidianità. Nulla, giocheremo a Berizzole, quindi sono anche contento perché comunque è una squadra che bene o male conosciamo, gli allenatori, lo staff tecnico che conosciamo e come prima uscita è anche bello perché è il derby e quindi è un po' come giocare con degli amici, cioè nel senso che torniamo insieme in palestra, due squadre bresciane e penso che sia il massimo. Quindi nulla, un in bocca al lupo a loro e a noi e speriamo di divertirci.